Ora vorrei di iniziare a primavera come sono, ma credo che non voglio iniziare a primavera play then, and play as it was, a normal game, I'll be, I'll... I'll do, I'll do the, really, I started doing the quest, I have some money, and I'll do, I'll do it, really, I'll do it. And that's a good, really. no piti no piti no piti no piti come vi per le castle, where would it be? well it's not far come grab that, ok oh well, the looters we're out for a stroll, Owie well oh well oh, something's work oh oh, something's work oh 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. What can I do? Ok, let's go to intelligence too. Now, considerate my speed. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Rivella Castle, a Saint-Oustin's Castle, ok, vedo dove sono. Ok, vedo. ... 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 che accassero always have to do the tasks for... Sì. Ok, e l'ultasca farà. Sì, sì, sì. E, ecco, ecco, ecco. E, ecco, ecco. E, ecco. E, ecco, ecco. E, ecco, ecco. Ok, ecco. E, ecco. E, ecco. E, ecco. E, ecco. percorso 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 Oh 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 27 Okay Il 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 Ma Il 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 a senus e a cassa e danno a meraviglia. Il boccasso le darci 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 Il b asko le darci Il bai Il win Il che cosa che sarebbe? Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. 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 . . Sì. 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 ok non è buono Grazie a tutti De Luca Grazie a tutti 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 Grazie a tutti